Vedi? E di là è molto più basso. Cosa vedi? Vedi? Sei nato per questa cosa. Tuo corpo è un'arma universale. Vai! Ricorda quando io facevo che di tutto si può fare un'arma? Si. Ricorda quando io dicevo prima lezione? Se io voglio diventare così, diventa così. Se voglio diventare così, diventa così. Si, si, si. Hai capito? Questo qua sarà un po' più difficile. No, 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 stai persintentare. Questo ci può andare in più. Ok.. Questo... Ok, ok. Batti, un codio vedi. Guarda, guarda. Guarda, adesso è supervisione. Adesso asparci. No, no, non, dai. Sento anche ditta di piedi adesso, no? Ok, già meglio così. Io sono il campione di treprendi in Italia, puoi fare anche te gelade? Eh lo so però, provarti, ho sentito che ho il piede qua per mettere. Vedi quando io ti prendo così, senti il piacere del segnoio. Senti come ti aggancio, girati un po', senti questa cosa come sei agganciato. Quando mi stringhi con i ginocchi, senti questo piacere di controllo, di appartamento. Anche se diciamo lui sarà agganciato con due bracci su una grata cielo. Tu, quando sei agganciato qui puoi stare con una scimmia tranquilla agganciata come una... Questi topi che dormono con grandi pizzerie. Questi che vogliono, pizzerie, si. Capisce? Tu devi sentire questo agganciamento. Basta, niente altro. Ho quello di inverso da fare. Sì, sì, sì. Hop, hop. Aspetta, aspetta. Ho visto. Hop. Tu, passo. Hop. Non vai indietro. Non devi andare indietro. No, 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 no. Deve essere qui, tutto qui, tutto qui, tutto qui, tutto qui. Bene. Adesso prova anche a fare legatura tra le gambe. Ricorda quella che... No, no, no. Una... Oh, sì. Però, vedi? Deve avvicinare mia caviglia a un'altra caviglia. E adesso senti così. Prova. Via, cazzo. Io non so neanche dove sento. E se faccio... Ah, sì. Sì. Vedi? Adesso uscire. Vai, vai. Vedi, così deve essere. Vai. Porta questo talone... Ma questo fa male. Questo talone... Questa cosa da giù fa male. Questa qua fa male. Sì, deve soltare bene gambe. Vai, vai, vai. Gira. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. E va, adesso... Adesso mi stai rompendo anche il mio femore. Sì, sì, sì. Sì, sì. O adesso rompe anche il mio femore. Sì, sì, sì. Quas? Femore si rompe. Perché, vedi? Mi stai ridrissant su gamba sinistra. Sì, sì. Sì, sì. Questa gamba si ridrissi. Vedi? Vedi? Vedi là. Vedi? Quando stai tirando su talone... Ah, ok. Gamba si ridrissi. Ho, sì, mi aga madrissi. Ah. E poi anche si... Ah, sì. Dò la altra parte. È una cosa che vedi qua. Vedi qua, provo. Ho. Ho. Vedi, vedi qua. Non fai in fretta. Non fai in fretta. Hai, qui ti va? Ho. 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 HoSelic. Ho牛ia Tayura. Ho Russo Saludou. Già, già, già. Vedi? Anche se io voglio ritrissar-ah, cazzo. Anche se io voglio ritrissa-ah, cazzo. Vedi, anche se voglio ritriss-ah. Sì. Gna speakers. Qui come mi hanno messo un coltello, qui, a questo orto adesso sento un coltello, io con mia tibia mi spacco, guarda, con mia tibia mi spacco Chiavo illuminazione, però si paga la scuola con封onore? si noi cosa facciamo? noi facciamo noi facciamo calone ok per ciò no no vai vai giù